Buon promenso a tutti ragazzi, oggi faremo questa campanita di legno, abbiamo un certo di cinque campane in due tre, adesso ascoltiamo sempre le 14.42, di fronte a un po' faccio vedere, questi sono due campanoni, la mezzana e la piccola, adesso ascoltiamo la distanza dei due campanoni alle 14.42, quindi a presto la Edoardo che hanno paio ad ascoltare tutti, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!